Dovrà rispondere di abbandono di minore il padre ragusano cinquantenne che aveva lasciato da sole il figlio di nove anni all'interno del complesso fieristico della FAM, dove era impegnato con la sua azienda, a segnalare l'uomo alla compagnia dei carabinieri di Ragusa, la madre del bambino. Al telefono infatti il marito le avrebbe raccontato di essersi allontanato lasciando il figlio da sola alla fiera, rassicurandola che non ci sarebbero stati problemi viste le tante persone presenti. La donna preoccupata però ha deciso di chiamare il 112, mentre lei stessa raggiungeva contrada conservatore. Un'autopattuglia dei carabinieri è subito partita, ma arrivati i militari hanno trovato la donna già con il figlio letto. Fortunatamente il bimbo stava bene, gli agenti hanno verbalizzato le dichiarazioni della madre e hanno scoperto che anche il giorno antecedente il marito avrebbe lasciato per diverse ore il figlio da sola alla fiera. Il cinquantenne denunciato rischia ora fino a cinque anni di reclusione, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in qualità di genitore. Grazie a tutti!